a volte ritornano io sono contentissimo di avere qui accanto a me Giovanni Cessel non è un nuovo ingaggio delle altre squadre state tranquilli giocherà nella mia città e ne siamo tutti molto contenti Giovanni è in Veneto non è al Palio di Siena anche se ti hanno visto in svariate storie Instagram dove hai spopolato come stai Giovanni come va? io sto benissimo ho appena finito due mesi di allenamenti duri quindi ora mi sto rilassando prima di iniziare ad agosto la cosa bella di Giovanni è che si può parlare di pallacanesso parlare di tecnica cioè su cosa hai lavorato nello specifico sul tiro da tre punti sul tiro dalla media sui movimenti in post raccontaci ma allora più che altro quello che serve a me è giocare quindi ho fatto molte partite molti tornei 3 contro 3 4 contro 4 5 contro 5 e poi ho fatto una settimana di individuale dove a Bologna dove stavo lavorando molto su ball handling quindi come gestire quando la palla tra le mani e poi anche i movimenti da sotto che i movimenti ce li ho ma è essere solido ho capito quindi stavo lavorando quindi tutti i movimenti power per essere ancora più impattante quando vai su praticamente esattamente sì 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 pensavo di aver capito bene ce l'ho arrivato sentimi quanto ti manca Reggio Calabria? Tanto no sto veramente mi sembra che il tempo stia passando troppo lentamente per quanto voglia arrivare a Reggio Calabria che giustamente dico aspetto il palio di Siena al 16 agosto il 17 sono giù a Reggio però ancora manca tantissimo mi sembra. Sì ma ci vuoi raccontare di questo di questo amore morboso dei cittadini dei due concittadini verso il palio perché per noi è qualcosa di nuovo è famosissimo il palio però finalmente abbiamo qualcuno che ce lo vuole raccontare al di dentro. Allora l'amore secondo me per dei sienesi per il palio di Siena viene comunque da un campanilismo che è tutto toscano perché ogni ogni città in Toscana pensa di essere la meglio e gli altri invece non sono nessuno e a Siena a Siena c'è questo amore infinito uno perché ci cresciamo da quando siamo nati cioè veniamo io sono stato battezzato quando avevo meno di un anno nella pantera e qui e poi è come un oratorio quindi vado lì da piccino ci sono i gruppi per i bambini poi quando aumenti diventi più vecchio aumentano le responsabilità cioè per esempio una volta che riesce a portare due seggiole in mano aiuti a montare le scene cioè con tutte le tavolate le seggio e le sedie e sono cose che magari all'inizio non capisci anche io me ci è voluto molto per affezionarmi poi però quando ti travolge non riesce a farne a meno e poi con i pali che sei lì che senti che questa emozione che non sapevi di avere dentro poi viene fuori e poi magari che tu vinca o che tu perda rimane sì 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 è un qualcosa di bellissimo e più bei ritratti dell'italia senza se senza ma e vi consiglio di guardarlo perché è veramente emozionante due luglio e 16 agosto due luglio e 16 agosto e due luglio l'abbiamo fatto 16 agosto e che mi dici della nuova squadra sono veramente estasiato cioè proprio non vedo l'ora di avere di fare il primo allenamento anche perché mi sono incontrato con Ilario ne parlavate la scorsa intervista con lui ci siamo incontrati vicino Fidenza e mi stava descrivendo insomma questo Fernandez questo play che giocava a Barcellona e poi anche con Ani ora abbiamo c'è questo nuovo acquisto della nazionale albanese mi dimentico il cognome Nicola Ivanai che io poi non conosco nessuno poi perché sono totalmente fuori dal mondo del basket italiano e ma tu sei dispensato perché sei quello americano cioè alla fine ci sta esatto esatto e però c'è quello che posso dire che stiamo venendo su molto grossi alti e grossi quindi è una scusa in meno e poi non ti so dire devo aspettare di giocarci allenarci insieme sì io aggiungerei anche Fidiaru che tutti mi raccontano di quando prende la palla dalla difesa e va in attacco mi dicono che è abbastanza devastante impetuoso dal punto di vista del recupero e del volare all'altra parte secondo me sarà una squadra molto molto fisica bella di quelle belle potenti devo farti complimenti perché tuo papà ha vinto ancora ha vinto al maxi basket sì ha vinto gli europei è andata bene è contentissimo io non ho visto le partite perché nel mentre avevo anch'io un torneo a bologna però beh mi diceva che stava sparando anche da tre ah e quindi è migliorato strada facendo e ha detto guardandomi quest'anno gli è venuta più voglia di sparare da tre non che io abbia tirato tantissimo eh però sì 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 no però devo dire che secondo me è un fondamentale sul quale hai hai tutto il tempo per migliorare e per far bene perché il tiro a tre è un qualcosa che se lo coltivi strada facendo può diventare un'arma fondamentale per il tuo futuro quell'arma in più sì 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 e poi la pallacanestro moderna è bellissimo quello che io e te condividiamo ovvero dei giocatori interni anni ottanta e novanta però purtroppo i lunghi moderni se non tirano a tre diventa purtroppo un qualcosa di limitante e Giovanni sei stato a all'interno di belli bei movimenti di mercato anche abbastanza importanti perché ci hai scelto un'altra volta che lo so perché ci sono io che faccio le telecroniche e poi provo ad occultare le cose brutte quelle che non possiamo vedere né mandare alla giornata tipo a minor ok ma eh oltre questo cosa ti ha fatto innamorare il gioco calabria beh soprattutto io direi vabbè oltre alla gente oltre alle persone proprio la gentilezza la spontaneità delle persone io mi sono innamorato semplicemente anche di della viola e poi reggio calabria come concetto proprio vivere sullo stretto vivere davanti al mare una cosa che non sono mai stato abituato e poi per come sono stato trattato venendo dall'america anche il cibo che ho mangiato e no io proprio mi sono innamorato non posso avere una una motivazione perché ce ne sono talmente tante che ti dovrei tenere qui un'ora io vorrei capire da te perché tu sei ragazzo che studia ragazzo che legge studioso ma quali sono le differenze culturali tra stati uniti veneto dove sei ora siena e reggio calabria vabbè allora se devo fare un un confronto con l'america a quel punto io raggruppo tutta l'italia perché siamo tutti uguali alla fine al confronto non c'è una cultura del cibo non c'è la cultura del del fermarsi e apprezzare il momento per esempio unendo queste due cose in america non si siedono mai a mangiare assieme per pranzo per cena anche per colazione sono tutti che hanno da lavorare quindi hanno orari diversi e va a finire che uno fa pranzo alle 11 e l'altro fa pranzo alle 4 di pomeriggio e io non ce la faccio poi lì vivono vivono per lavorare e a me con quanto mi piace il basket io però lavoro per vivere nel senso poi sono anche fortunato che il mio lavoro sia uno sport che amo una mia passione e quindi non non mi sembra un lavoro però per me di base bisognerebbe lavorare per poi fare quello che si vuole dopo sì e secondo me anche il discorso contrattuale che lega un po' tutti voi protagonisti quest'anno è quello di guardare al futuro di non guardare tanto la stagione che verrà è chiaro che la formula è bella tosta c'è una mezza promozione in meno perché l'anno scorso ragusa è stata promossa la seconda quest'anno questa seconda chance non c'è e va ricordato è cambiata anche la formula del playoff che ne pensi di questo nuovo campionato delle competitors avremo un avversario che è Thomas Binelli che affronteremo con Piazza Almerina che è il tuo ex capitano ormai e che ne pensi di questo nuovo girone ma io ho visto che ci sono tanti vecchi come si dice vecchie squadre importanti che sono tornate su non so se te mi sai dare qualche nome ma ho visto la scandone avellino nel nostro girone per esempio ecco che ha fatto la serie A per tantissimi anni poi quali sono le altre grosse no le altre grosse siamo noi sicuramente sono tutte le conferme l'anno scorso delle cinque siciliane abbiamo Barcellona Milazzo Basket School Piazza Almerina e Castanea ok le le tre calabresi quindi avremo due derby uno corrente come l'anno scorso e uno con Catanzaro che ne ho promossa che secondo me ha allestito già una squadra molto molto competitiva di livello sarà un bel derby contro la formazione di Catanzaro molto sentito e poi il girone ha voluto che secondo me ci è andata anche bene perché non ci sarà Matera che è molto ambiziosa che arriva dalla C che è costruita sarà costruita secondo me per far bene però ci sono quattro campane una è la scandone dicevamo squadra importante sodalizio importante anche perché Avellino in questo momento storico avrà la 2 che sarà promossa quest'estate che si chiama Avellino Basket e la è la scandone che è la storica società di Avellino che che vuole tornare e Mariano che si sta strutturando l'Antoniana anche lì promozione della Serie C ma secondo me costruiranno il roster bello tosto e e la quarta campana che sicuramente ci arrivo è Angri che abbiamo affrontato già nel playoff che ha perso qualche qualche pedina importante tipo Taddeo ma vediamo un attimino come l'anderà a costruire non so cosa ne penso io io voglio pensare a noi voglio cioè alla fine pensare alle altre squadre quanto mi conviene nel senso meglio fare il lavoro nostro pensare a farlo al meglio nei minimi dettagli e poi contro chi giochiamo non importa basta fare quello che insomma dobbiamo dettare noi il nostro gioco. Sì sì è la risposta che saranno un po' tutti perché per fortuna guardate le mie interviste così arrivate preparati per quella dopo questa è una strategia importante eh senti al momento avrei soltanto Simonetti dei reduci dell'anno scorso ci sarà anche Antonio Mazza che è un giovane in rampa di lancio che conosci molto bene eh Ilario secondo me studia per diventare capitano questo lo sceglierete insieme lo sceglierà il coach però ha dimostrato tantissima personalità tu si hai trovato bene con lui? Io mi sono trovato benissimo sì 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 io se lui se lui fosse capitano non avrei non avrei niente contro anzi sarei solo come supporter io cioè poi sarebbe anche una cosa molto bella insomma anche lui è un ragazzo calabrese che che fa il capitano per una squadra importante calabrese beh mettiamo un po' di enfasi sull'importante e poi poi alla fine il capitano però cosa fa cioè di ufficiale non è che faccia molto deve essere solo quel ruolo di leader però lo può fare il capitano come lo possono fare tutti gli altri giocatori sì quindi è solo una nomina insomma ufficiale sì è un qualcosa di simbolico anche perché nella pallana adesso non c'è nemmeno la fascetta con la c se uno ci pensa nessuno l'ha mai inventata però io sono d'accordo con te che tutti sono responsabilizzati e devono esserlo perché si vince in dieci anzi in dodici tredici quindici incluso lo staff tecnico inclusi tutti quelli che ci lavorano attorno perché mi ricordo quest'anno c'erano stati momenti per esempio in cui Lario io stavo magari stavo abbassato un po' la testa e lui me l'ha rialzata e poi anche viceversa capito assolutamente sentimi con chi hai giocato a Bologna che torne hai fatto ma ho fatto i giardini Margherita e che ho giocato con la squadra dell'assicurazione di Guzzi a Quacerelia ok non siamo passati ai gironi perché poi c'era l'ultima partita dei gironi che era il 3 luglio e io già gli avevo detto guarda se vinco il palio non ci sono se perdo ci sono poi hanno rimandato il palio per pioggia e quindi non ci sono e poi l'hanno rimandato di nuovo che sarei potuto andare là e tornare ma giustamente sono stata a Siena e quindi non sono potuto andare l'hanno persa e quello era i giardini poi ho giocato anche il not in my house a Castel Maggiore abbiamo vinto la tappa a Castel Maggiore e poi siamo andati alle finali alla Bologna però poi non siamo passati ma con chi giocavi? gente del loco quello di Castel il not in my house gente del posto e poi giardini Margherita giardini Margherita non so se non mi ricordo i nomi no giocavo con per esempio Verrazzo che gioca ha vinto sì Avellino come no Armando giocavo con Donato Vitale ah pure sì 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 no gente buona però quest'anno non è non abbiamo fatto click Donato che ha giocato alla Viola tu forse non lo sai questo no ho visto il profilo vecchio della Viola e lo affronteremo si spera nella seconda fase perché Monopoli ha costruito una squadra per vincere dove giocare lui è andato a Monopoli giocherà con Timmy Aguzzoli sì giocherà in quella super squadra tutta corsa che stanno costruendo anche Timmy penso abbia fatto i giardini e sì è un'amministrazione bellissima che io spero che un domani possa arrivare anche in chiave similare alle nostre latitudini sarebbe un sogno è chiaro che Bologna ha un ruolo anche geografico molto importante basket city passano tutti da lì dalla Toscana ci arrivi dalla Lombardia ci arrivi arrivare in Calabria è un po' più complicato tu lo sai si dovrebbe fare una squadra meridionale da portare ai giardini eh quella sarebbe un'idea quella sicuramente sarebbe un'idea lo possiamo proporre siciliana campana pugliese calabrese e fai una squadra e vai su lo possiamo proporre al nostro amico John Lupusor che ha firmato a Rieti che è un nostro concittadino e lui l'ha già fatto i giardini secondo me lui potrebbe fare il promotore che ormai è diventato un segno però so che servono soldi per per iscriversi lo so lo so me l'hanno detto me l'hanno detto però ci sta per come organizzato ci sta Giovanni a guardarlo a voglia a voglia e quella è la cosa più importante però ricordiamoci che i giardini nascono con un lavoro graduale anno dopo anno nascono già bellissimi così c'è stato un lavoro dietro importantissimo e gli va dato atto che il torneo estivo più importante d'Italia senza se senza ma va bene mandaci qualche video di questi fondamentali sono molto curioso voglio capire questo piede perno dove va a finire insomma mi sono dimenticato di fare video con calma io ti abbraccio ci vediamo qui quanto prima mi saluti mi saluti il Veneto perché da quello che ho capito sei dalla parte di papà ok e fai ancora i complimenti per questo titolo pazzesco e andando ad epilogare sono stati tantissimi quelli legati al mondo della viola e dintorni che hanno vinto io sono contentissimo c'è stato pure qualche accadimento brutto nell'over 40 ma fa parte del gioco e purtroppo può anche capitare però è stata una bella cosa in chiave complessiva Giovanni grazie mille buona serata buona serata bravo bac Monroe bravo ciao Grazie a tutti.